Bene, proseguiamo allora, vediamo, il villaggio più vicino è questo qua, che sembra essere ben distante, 800 metri di qua, beh dai pensavo peggio in realtà, avanti, leggi, ci interessa, si ma non in questo caso Sarà una scampagnata veloce questa dai, è tutto campo aperto, qui c'è un bel fiore, qui c'è del legno di tasso, preziosissimo, tac, questo poverino brutta fine Ah, oltre questa rupe, vabbè, ok, la giriamo dai Confronto Forcaccia Dai Eh, ogni tanto sbaglio anch'io eh Bene Quasi un altro punto Buono 250 metri Meglio chiamare il cavallino va Eh, vabbè, è altissimo qua No, direi proprio di no Da qui forse Da qui forse Di qua Villaggio di Checci Eccoci Speriamo che ci siano obiettivi bonus strani, tanto per cambiare Con l'arco lungo Au È fattibile dai Direi che è fattibile Cazzo Cazzo Ehi, 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 ehi Beh, non importa dai, uccidiamo questo qua fuori adesso Dovrebbe essere tipo Bene, obiettivo bonus completato Tre ostaggi, ok dai, quindi non è grandissimo come villaggio Perfetto Mi sa che ragazzi facciamo un po' di pausa da Saberpunk, sapete Vado più avanti volentieri in Ghost of Tsushima Anche perché in Saberpunk ho davvero tante puntate ancora da pubblicare Davvero, davvero tante Posso andare avanti tranquillamente a 35 giorni senza doverlo giocare di nuovo Preferisco questo nel frattempo Speriamo che magari nel frattempo lo patchino un po', eh No, anche perché Ghost of Tsushima è veramente un bel bel gioco E... Voglio finirlo e devo finirlo, insomma È giusto così Gli altri due ostaggi dove possono essere? Qua sotto magari, sì Sì Sono proprio qua, eh No, eh Che è successo? Perché corre quello? Boh No, The Last of Us l'ha battuto, eh Però c'è anche da dire che The Last of Us Secondo me se lo meriteva di più, eh Secondo me se lo meriteva di più, però Boh Oh la Oh la Ne manca soltanto uno E deve essere... Vio per di là, secondo me Va Non me l'ha aspettato Lui non ha sentito nulla Hai sentito, Paolo, che il prossimo Assassin's Creed sarà in Francia probabilmente? È così Fidati Cioè non è certo, però si vocifera che sia così, insomma Nice Cioè è incredibile ma vero? Mille mila assassini Shoji nel giro di un secondo Eh Manca ancora qualcuno E non me ne sono accorto Possibile che sia qui sopra? Oh che cazzo Buoni, buoni Dai, girati Girati Ok E vai Mi sa che abbiamo dato, sapete? Allora Il problema è che Per quanto riguarda il Giappone Hanno paura di Tsushima Perché di fatto God of Tsushima è un Assassin's Creed in Giappone C'è poco da dire Però potevano farlo in un altro paese Ecco, quello sì Però così è andata Per cui Villaggio di Ketchup No E vai Un punto tecnica Come lo spendiamo questo punto? Come lo spendiamo? Gin dorme sul cavallo Gin dorme sul cavallo Che bello Acciaio per otto Ciao Maggio Come va? Questo è fatto Però qui abbiamo In Olanda Perché in Olanda Cosa c'è in Olanda? Di caratteristico Parlo con la donna in lacrime Ok Tutto bene Bene Dai Bene Buonasera Se ne occuperà lui Dice Dice Sì sì è vero È solo che è uno stato particolare All'Olanda Diciamo Gli allegri banditi Dietro di me Beh Perché mi dice ancora Di parlare con le donne in lacrime? E perché non mi cambia i metri? Ma porca miseria 30 metri 40 metri E allora mi sa che ho sbagliato donna Sapete? Dove cazzo è? Dietro di me Boh Vabbè dai In Brasile Ma Paolo ma cosa stai dicendo? Ma perché sti stati così a casaccio? Perché? Vediamo Quattro di Quattro di Brutti infami Gli allegri banditi Raggiunge la casa di Saki Stati Uniti Sì sì beh è vero è vero Con il 3 sì Però il Brasile Boh non so Secondo me uno veramente fatto in Italia Mancherebbe effettivamente Allora Sali in groppa e vai C'è da dire che Essendo che si iscritte diciamo Sì sono in Italia Ma non sono open world Per cui potrebbe anche essere che rifacendo le stesse ambientazioni Però con un altro approccio al genere Secondo me ci sta Ci sta Ci sta secondo me Allora Un bell'open world in Italia sarebbe bello credo Come anche in Francia in realtà Beh staremo a vedere dai 500 metri di qua Riusciamo a farli da questa parte Sì dai Credo Forse forse ho un punto tecnica Vediamo Sì ce l'ho Spettro vediamo qua Meditazione Due nemici vicini Ok anche sto qua non sarebbe male Oppure petardo Polvere accecante Esplosione concursiva Attari nemici colpiti dall'onda d'urto Di una bomba di polvere nera Questa qua Voglio usarla più spesso Vediamo come va Ma è in Brasile Ma boh Secondo me ci starebbe bene in Africa Questa cosa l'avevo già detto In Africa Quindi molto più tribale ecco Sarebbe bello Però Oh E questi? Confronto? Ma No Cazzo Schifosi Ma dai Maledetti Eh vabbè Sì ok Ho preso il punto Un po' di Di leggenda Ma cazzo Che fine di merda hanno fatto Stai disgraziati Vabbè 200 metri Di qua Vediamo dove ci porta l'uccello Seguiamo l'uccello Uccello? Dove è andato? Non vedo Ah eccolo qua il punto Eh ok E il luogo non è ancora scoperto Lì sopra Andiamo di qua dai Grande Oh Un po' di salute aumentata Vai A cosa pensiamo Il fardello di un guerriero Il mio codice Il fardello di un guerriero Wow Tanta roba Sì non è detto Paolo Non è detto Però è possibile ecco Gli allegri banditi Già 130 metri di qua Buttati 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 Che morbido Buttati dai Aio Ma dai Ma sono per mutare due Per prendere quello lì Cazzarola Eh ma l'orso è un coglione Ma che problemi hai Lino Eh Che palle Era tanto difficile prenderlo Dai E questo Fermi Fermi tutti Ah esamina Mamma mia che strage Pare di no Pare di no Purtroppo Striscia No Qua fuori vediamo Ispezione all'esterno Della casa Sul retro forse Eh Un cane da guardia Poverino Impronte Eh le seguiamo Giusto Vai Già perse Ok Già meglio Di qua Eccole qui Qui Io non capisco Come sia possibile Che le impronte Vado Ne vengano Però vabbè Di là E io ne l'ho mica vista Però Proseguiamo Allora dai O fanno dei mega salti Oppure non so Onestamente Cosa gli costasse A farle Dappertutto Vabbè Parle Raggiunge le rovide di Komoda. Cazzo, ma è distantissimo. Ah, fin là. Piaggio rapido. Perché siamo fortunati, per fortuna. Yuna è una ladra coraggiosa e disposta a tutto pur di sopravvivere. Confronto. Ma porca miseria. Grandissimo. Uccidi i banditi. Cosa fa sto qua? Scappa? Ehi, ciccio pasticcio. Brutto e infame. Mortacci tuo, dove sei finito? Dove sei andato? Boh. C'è qualcun altro di qua? Oh, yeah. Facoltativo, uccidi i banditi. È certo che gli uccido, cazzo, eh. Bene. Muori, bastardo. Aia. Aha. Ok, qualcun altro? No, mi sto grattando l'occhio, maledetto, bastardo. Eh, dai, eh. E che cazzo, dov'è? Ma la smettete? Niente, non posso grattarmi l'occhio, vabbè. E vai. Altri nemici? Mi pare che non ce ne siano, vero? Eh, non ho capito, Paolo. Vediamo. Eh, disegnatore del gioco per cosa? Non ho mica capito, sai. Parliamo con la donna. Che succede? Eh, eh. Saki? Saki. Ma non si può fare un po' di risultato. Perchè... Perfetto... Perfetto. 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 Che infamata. Perfetto. 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 Torno da Saki, un chilometro e uno. È distantissimo. Ecco. Nel dubbio. Qualcosa da prendere da questi infami qua? No, eh. Ok. Facciamo così. Viaggio super riper rapido. Ma mica tanto in realtà. Beh, così dai. Bene, bene, bene. Potenzialmente disponibili tra i dai cacciatori. Oh, perfetto. Vediamo se ci aumentano magari... Oh, le munizioni di un qualcosa. Mi verrebbe da dire di sì, però chissà. Bomba fumogena. Non credo proprio. Freccia esplosiva. Da 2 a 4. Ok. 6. Va bene così, dai. Ti ringrazio. Cavallino? Cavallino orario? Eccoti qua. Di qua? Pari di sì, ma è un po' distante. Un po' alto da qua. E questa? Riediamo. L'ha Baa Una nuova quest, me l'ha andata la chiave, ma non mi pare sai, non mi pare. Ciao King, allora di qua, hai preso poi i mortals, torna da Saiki, sai chi, dov'è? Quante chiavi ho? Non so se posso. Che succede? No, si è suicidata, cazzo. Che tristezza. Gli allegri banditi, ai 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 ai. Non dovevo finire così. Non dovevo finire così, vabbè. Utilizzerò la modalità cinema, yes. Amuleto offensivo. Questi qua è un po' che non li uso, ci penso. È un po' che non li guardo, vediamo un attimo. Accessori. Ehm, no. Qua. Ah, ho uno slot addirittura, che pirla. A favore di... Allora, amuleto minore della difesa. Vediamo un attimo. Quanti ne abbiamo, cavolo? Quantità di salute moderata. Quando non sei in combattimento. Che raccogli? Ah, ma è buono, che cazzo, questo qua. Danni bonus quando la salute è paro, inferiore al 50%. Cioè, mai, in teoria. Quantità di salute moderata. Mettiamo questo qua nel frattempo. Oppure... Quando non c'è in combattimento. Incremento il lead della mischia è moderato. 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 Danni doppi, 5%. 15%. Beh, questo qua è tutta roba buona, eh. Amuleto dell'immunità. Le frecce non mi interessano particolarmente. Vediamo cosa abbiamo qua. da mischia è moderato. Barcollamento. Danni di... Ok. Reduzione di tutti i danni. Ok. Aumento dell'assoluto moderato. Minore, eh. Questo qua possiamo metterlo. Velocità di individuazione nemica. I nemici smettono di darti la caccia il 40% prima del tempo normale. Le repriste nell'ulteriore 7,5% di salute. Ok. Ah. Non male. No, io direi di lasciare stare la determinazione. Mettiamo... Beh, anche la guarigione, dai. Dov'è? Eccola qua. Ok. Ci sta, dai. Ci sta. Completa armi e munizioni. Basta. Punti tecnica non ne ho. A posto. Ho capito, ho capito. Va bene, dai. Mi farei sapere. Hm. Qua. Andiamo qua. Viaggio rapido. Alla tenuta di Adachi. Lo stesso Adachi di Yakuza 7. Giusto per essere chiari. Fattoria di Kuta. Di là, eh. Vediamo. Sì. Ho interpretato bene il vento. Vediamo che obiettivo bonus c'è da questa parte. Qui non c'è nulla al momento. Uccido il nemico mentre ti occulti con una bomba fumogena. Ok, allora è fattibile. Vero. Bomba fumogena. Ne ho solo una. Cazzo. C'è mica un'entrata posteriore qua, no? Buono, buono, buono. Tiè. Merda. Spero non abbiano lanciato l'allarme. In teoria no. Proviste per uno. Cioè dopo che ho messo l'amuleto è questo qua e il risultato. Ma che cazzo. Eh vai. Ma avevo fatto assassino io. Comunque vabbè dai. Non importa. Ui là là. Bastardo infame. Lasciatemela stare, eh. Qualcun altro vuole farsi sotto? No cazzo. No. Lasciatemi stare, bastardi infami. Porca miseria pupazza. Mamma mia che botta di culo. Beh i cani non credo che uccidano l'ostaggio, eh. Che cazzo va bene tutto, però. Jin concentrati. Dove stai attaccando? Schifoso. È andata un po' da culo la cosa, eh. Porca miseria. Via, 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 via. Merda. Tutto a scatafascio. Eh, vabbè, allora c'è una merda, sai. Cazzo. No, devo liberare queste prima che sia troppo tardi. Che trauma. Eh, ho capito, c'è ancora questo, è vero. Arrivo, arrivo. State buona, signora, ok? Mamma mia che fatica, cazzo. L'ho gestita veramente col culo. Modestamente. In realtà ho rischietto di fare più danni che altro, però. Però, però. Proprio lui, proprio lui, è vero. Il primo film che vedremo nel canale Discord sarà Sasha la Grigia. Informatevi su che film è. Allora. È un film fantasy, eh. Attacca un titan. No, più avanti, più avanti. Quando finiscono anche l'ultima stagione, vediamo. Al momento non mi posso permettere quel lusso. Che poi io sto uccidendo le persone, ma non so neanche dove sia l'altro coso, eh. Dove cacchio è l'altro ostaggio? Mai dire mai. Mai dire mai. Dov'è il prigioniero? Prigioniero. Oh, non trovo l'altro prigioniero, eh. Dove cazzo è andato? È qua dentro, per caso. Ah, lì sopra. Ah, ok. E non me ne ero accorto. Speravo meno di Cassory, invece no. Vai. Un'altra chiave. Ma quante ne abbiamo adesso? Non tutte e sei, mi sa. O almeno non credo, insomma. E vai. Sì, 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 sì. Posso fare così, sì. Ma per il momento siamo troppo pochi per vedere il film. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Serve una base un po' più ampia, diciamo. Taijin che non è tempo di dormire, su. Svegliati. Allora, e anche questa è fatta... Ok. Vediamo un attimo nel diario. I racconti di Tsushima. Il padre di famiglia. Il racconto di Masako. Norio, Yuna. Lo stolto. La ladra. Ok. Mostra sulla mappa. Minchia che è distante, eh. Lo spirito della vendetta di Yarikawa. Rifugio del ribelle. Cazzo, ma non c'è mica niente di... Non dico un attaccato, ma un po' più vicino, tipo. Nulla di nulla. Qua mi sa che tutte le queste secondarie, tra virgolette, le ho fatte, sapete? Allora, facciamo così. Facciamo il viaggio rapido qua e andiamo qua. L'ultimo monoco guerrigliero. Vai. Oppure anche qua. 5 di 9. Lo stolto. Ammoleto funzionale minore. Beh, intanto andiamo... No, facciamo quello, dai. Viaggio rapido. Non c'è nessun problema. Allora. Punti tecniche. Un punto. Vediamo. Forme. Allora. Due colpi perforanti che danneggiano il nemico. Pietra. Stoccata. Tiene un punto triangolo, poi triangolo. Incrementa i danni dal barcolamento inflitto di spadacini con gli attacchi della forma di pietra. Questo qua è buono. Spettro. Invece qua cosa abbiamo? Le bombe fumogene accecono temporaneamente i nemici coinvolti nell'esplosione. Inoltre il fumo permane più lungo sul campo. Il fumo di una bomba fumogene permette di recuperare parte della salute. Ah. Però. Non male, eh. Scheggia esplosiva. Aggiunge scheggia all'interno delle bombe di polvere nera per incrementare i danni e ampliare il raggio dell'esplosione. Che figata. Vero. Tempo di meditazione. Vai. Sto guardando che usiamo spesso l'arco noi. Su Discord, Paolo. Su Discord. Alla nostra destra. Lasciamoci il tramonto alle spalle. In teoria. Bomba. 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 Ok. Prendi tutto. No. Che strada sto facendo? Ma no. In realtà va bene così dai. Ah, non ti preoccupare, Paolo, che quando sarà ora te lo diremo. Non ci pensare per il momento, è solo una proposta, una bozza, diciamo. Non ci pensare, non ci pensare. Cos'è sta cosa qua? Dai, cavallino. Wow. Che braccio lungo. Porca miseria. Meh. Dai su. Dai giù, cazzo. Mi sa che profonda è l'acqua qua, però. Che strada del cazzo stiamo facendo? Ui là, un sacco di fiori qua. Che fortuna. Sì, ma cavallo, se salti quando cazzo ti pare, eh. Confronto. Eh beh. Tanto li sbaglio sempre, in pratica. Ma porca, c'è. Bene. Dai. Dai che cazzo. Ah sì? Bene. 3 giga, però non è mica poco, eh. Beh. Ah sì immagino immagino Posso immaginare infatti Allora Di là Vai Stanno delle volpi dove? Alla mia sinistra? Ok Vai volpina vai La 1.05 dici Paolo Eh boh vedremo dai Sì ma volpe vai piano però eh Sono solo un uomo dopo tutto dai Eccoci qua Meno 3 Per il prossimo slot E vai Facciamo due passi in avanti E uno indietro come al solito Come al solito Sì io ho visto Ma sta ricevendo molto successo Perché purtroppo su computer la gente Ha spesso componenti un po' scrausi E appena scoperto l'acqua calda Vabbè dai Perché di fatto la componente Cioè la parte di stadia Va esattamente uguale a quella per computer Né di più né di meno Basta avere un computer decente ecco Però quello sì Anche perché su stadia A gira mi sembra Grafica medio bassa Cioè No chissà cosa Però boh Qua vedo un uccello Dove ci porta l'uccello Tanto per cambiare Oh E questo? Mi sa che ha a che fare con la cosa Stai per iniziare un nuovo racconto Vuoi davvero procedere? I progresso nel racconto attuale Saranno salvati Sì? Questo qua c'entra ragazzi con la cosa Con l'armatura di Gosaku Siediti e ascolta la leggenda di Gosaku Sì? Occio Tanti Occio In reaches Est Occio E Mi Que Ma A presto 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 Cazzo quanti sono? Vabbè, il miglior modo per battere un arciere è nello scontro ravvicinato Sempre se non ci uccidono mentre ci avviciniamo Frecce Qualche provvista? No eh Qua neanche, eccolo qua, perfetto, per tre, wow Tanta roba, per due, wow, e per fortuna che ho messo anche l'amuleto Per aumentare le provviste raccolte Oh Si è offeso, però ha ragione, eh? Mai abbassare la guardia Mai lasciare che i sentimenti ciofuschino la mente Quali sia un uomo? Il giro di più di un uomo Acazimano a città di un'altra città di un'altra città Tomoe ha fatto il suo amico Il giro di cui si tratta di un uomo Il giro di cui si tratta di un uomo Eh, qualcosa di meglio da fare, eh, raccogliere i fiori Cosa cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa? Cosa è? Comparso un ucciso a loro sceglerebbe Cosa è? Bastardi Bastardi Il fatto che il tuo figlio è un figlio di 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 un figlio. Ma che merda di allieva è cazzo? Eh già. Ma perché è diventata così cazzo la sua allieva? Perché? Così cattiva, perché? Come mai? E' passata al lato scuro. Al lato scuro è passata, eh? Ora ci sono. Nacca-yama torri da ricordare. La scuro di un'esplosione, perciò la scuola. E' una scuola. Oggi vediamo due volte, un'esplosione. Ci sono qui. Ti ho anticipato, dai su Ui là Ispezione nel campo Ok E' ispezionato, e quindi? Eh, cosa devo fare? Ah, ok Sono scemo Bene Raggiungi la zona di ritrovo 10 metri Boh Eh, allora Facciamo una cosa stra furba Vediamo un attimo Freccia, no Lancio, campanellino Bomba di polvere nera E vai Ah, morti tutti così? Con una bomba? Incredibile, cazzo Ma Jim, dove cazzo stai attaccando? La forma delle lune è efficace contro i brutti Vabbè, ok, grazie Vabbè, adesso non è che l'ho ucciso grazie alla forma della luna, eh Comunque vabbè Ho visto, provviste importanti. Raggiunge il campo di addestramento di Tomoe, mamma mia che tristezza. Fantastico il temporale, mamma mia che bello. Dai, Ishikawa che facciamo? Dove ispezionare qualcos'altro? Il temporale con il sole, eh, capita. Capita anche quello, dai. Però non ho capito, dobbiamo parlare con lui, o forse, ah, ecco, ecco, ecco. Ah, ecco, sì? E brava, Tomoe. Cosa? 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 Caroo. Cosa? 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 E, come? Beh. Questo racconto Ragazzi è quasi completato Quasi Che palle è possibile ogni volta Manca così poco Amuleto della precisione Amuleto a distanza va bene Diario aggiornato seta per due Che cosa abbiamo qua Rifugio delle ribelle Bene poi cosa abbiamo qua Lo spirito della vendetta di Yarikawa Natuo Il vendettore di sake Paolo ma perché scrivi così Le ferie non si scrive così Cos'è quella roba lì Cioè si scrive così ma non so cosa voglio fare Con il punto esclamativo Davanti Vediamo cosa abbiamo qua Ah ok ok No perché ci sono dei comandi Uccidi un nemico con il kunai Uno di due già fatto Come è possibile Confronto Non voglio fare il confronto Io voglio fare Ok Non so perché uno me l'avesse già dato Però va bene Non che mi dispiaggia ecco Arrivo Preparati Ho fatto anche quadrato ma Ah l'ha fatto l'assassino alla fine Allora bene dai Ma che cazzo suona il corno Testa di minchia Eh vabbè Ma è detto infame Va Va Che feile Ma che cazzo Io cerco di fare il perro ogni tanto Però Non mi riesce sempre purtroppo Aia La tua leggenda si accresce E vai Determinazione massima incrementata Lo spirito vendicatore E anche la salute In maniera sensibile Non come quando faccio il bagno Nelle cose termali Che è una cazzata quella Provviste Cosa abbiamo qui da prendere Vui là Amuleto del riposo celato Le bombe fumogene Ripristinano il 25% Della salute Eh mica male cazzo Mica male affatto Cos'altro c'è da prendere qua Un po' di munizioni Va bene E Basta mi sa Ok Bene Danza dell'ira Un'abilità speciale ragazzi Un'abilità speciale Vediamo 190 metri Di là Di qua Eh si Facciamo il giro di qua Allora Vediamo Prefettura di Yari Kawa Ecco Devo per forza smontare Non è il mio cavallo No Questo qua è un cavallo Della concorrenza Elaborato Tipo O più veloce infatti No non è vero È solo che era lì a portata di mano Le ho detto Vabbè perché no Bamboo Di qua Che cos'è questo punto esclamativo Eh di domanda Confronto Ah che cazzo Pensavo fosse una finta Porca miseria Bomba fumogena non ne ho Bomba adesiva Tiè Grande Au Aia Eh vabbè ma io ho fatto schifo Porca puttana Come è possibile Va va a cagare va Ecco Eh l'ho vista la volpe Hai ragione Paolo Adesso la seguiamo Era una tana delle volpi Questo qua infatti Una tana delle volpi Però con un confronto vicino Allora Di qua Mamma mia Che posto Del cazzo Eh questo qua Merda Grande Ottimo Sì Proprio questo volevo fare io Porca trota E adesso Mi attacco al cazzo Eh ho sbagliato Pulsanto Non mi aspettavo Di usare il rampino Pensavo fosse un salto normale Vabbè Repeat Rinse and repeat Allora Vediamo un attimo Dai Jin su Intanto ti blocchi Che cazzo ti prende Vediamo se devo triggerare di nuovo la volpe Oppure posso andare direttamente là Boh Credo fosse No 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 Qua era dai E che cazzo Ah ecco perché Avevo sbagliato prima Ma dovevo dondolarmi Devo fare così Vabbè Santuario senza volpe Ma c'è la volpe allora Meno due Come vi dicevo Bene E questo Un AIQ forse No Qua c'è qualcosa di Forse un campo Ah Yarikawa Ah ho capito L'altro è questo Questa qua Sì 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 Ho capito Va bene Kit per spada E danza dell'ira Eccomi qua Sono pronto C'è qualcosa di Ciali-cà武者 è davanti di Sussima di un luogo di scendio. Ciali-cà d'acqua, ma solo un uomo di un uomo. Per gli uomini di un uomo, per farlo di farlo di farlo. Ciali-cà d'acqua, ma solo un uomo di un uomo. Ciali-cà d'acqua, ma anche il uomo di un uomo. Grazie a tutti. 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 Ispezione del campo profughi. Grazie a tutti. Ok. Ok. Secondo me va a prostitute questo, ecco perché sparisce ogni notte. Oppure giocare al fantacaccio di nascosto, chissà. Dai, dai, scatta. Wow. Wow. Erano legati. Erano legati in che senso? In che senso legati. In che senso legati? Cerca del fumo. Cerca del fumo. Ehm... 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 Ci resta che guardare... l'ultima parte inesplorata. Ehm... 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 O almeno credo sia quello lì. Sì, è probabile, dai. Ui là. Svegliamo il mister Kunai, eh grazie, dritti di qua E come scendiamo qua Jin? Ah di qua, ok perfetto Ho un brutto presentimento, fra l'altro ho anche pochissima determinazione, cazzo, se devo combattere Speriamo bene, va Che sfiga, cazzo Sono sempre pieno Sto giro no, ne ho pochissima merda Esamina No No, un'altra offerta, ma come Jin? Ma che palle Un'altra offerta devi controllare, che cazzo Basta qua, abbiamo controllato tutto, via Fumo bianco, ehi là Eccolo qua Eh ma che palle, o prendiamo sto cavallo dai Adesso che so dove esattamente, vai Sakai è l'ultimo del suo clan, ed è un servo del cane Shimura Ma Sakai io? Jin Sakai? Eh sì, cazzo Brutti, infami Dov'è il giardino dei dei? È alla mia destra È lui? No Sì Eh bene dai Prevedo cazzi amari qua Prevedo cazzi amari qua Un po' di provvista casaccio giusto per Un po' di provvista casaccio Ok. Delle statue. Sarà là dove c'è il fumo bianco, dai. Provai che sia. Se non lì. Vediamo. A giudicare anche dalle quantità di lucciole è sicuramente questo il posto. Posso parlare con voi? Aia. Immaginavo. Andiamo. Eccole qua le statue. Ragazzo è un brutto presentimento qua. Raccogli l'offerta? Ah, eccola qua, ok. La vendetta di Yerikawa è qui per te. La vendetta di Yerikawa. La vendetta di Yerikawa è qui. O mai è la vendetta di Yerikawa? Ma ho pochissima determinazione, porca troia. E' quello il problema. Battite duello con lo spirito. Mmm. Mamma mia quanta vita. Eh, vabbè, ok. Ah, mamma mia che volume alto ha. Ma... Che cazzo? Ma ha tantissima vita, cazzo. La vendetta di Yerikawa è qui. La vendetta di Yerikawa è qui. La vendetta di Yerikawa è qui. e la vendetta di Yerikawa è qui. che figata che figata cazzo vendetta di omukade forza disumana e furia benefica si vabbè è una skin provvista per 12 beh speravo fosse un po' più ricco onestamente le mure di Yarikawa Yuna è convinta di poterci aiutare a reclutare la gente di Yarikawa anche se il loro odio per Lord Shimura risale a quando lui ne soffocò la ribellione e vabbè è incremento della leggenda massimo bene ragazzi e dopo questa stupendissima live io direi che possiamo finalmente concludere questa live per l'appunto grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti